Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sto leggendo il mio compito tra la settimana scorsa. Sono quattro esercizi sul sapere e conoscere. Ho trovato più facile ma mi piacciono molto. Allora ecco qua. Marta sai suonare la città? Nicola conosce molte persone importanti. Noi sappiamo cucinare molto bene. Lui sa parlare tre lingue perfettamente. Ragazzi conoscete mio fratello. Tu sai giocare a tennis molto bene. Io conosco personalmente il rettore dell'università. Loro sanno ballare il tango. Barbara e Lorenzo conosco molti professori in questa università. Io so che la prossima settimana ci sarà un scoperto scopero scusi dei treni. Uno sciopero dei treni. Mio marito sa cucinare molto bene. La tua nonna sa usare il computer. Valeria, conosci i libri di Elena Ferrante. Sono molto belli. Carlo è molto intelligente. A cinque anni sa già leggere e scrivere. Ragazzi, conoscete il dottore Marini? È molto bravo. Il signore Cardani conosce tutto in città. Ieri Carlo ha conosciuto il suo nuovo campagno di appartamento. Roberto, io ho saputo che hai vinto una borsa di studio completamente. Ragazzi, avete conosciuto chi verrà alla festa? Carlo ed io abbiamo saputo che i nostri amici non verranno in vacanza con noi. Valeria, hai conosciuto la nostra vicina di casa. Voi avete conosciuto il nuovo professore di storia? Marco, hai saputo dove si è trasferita Nicoletta? Roberta ha saputo che la sua amica Maria è tornata in Italia. Finalmente. Isabella, conosci la nostra vicina di casa? Ieri sera Giovanni ha conosciuto i genitori della sua fidanzata. Da bambina Maria ha saputo suonare il pianoforte molto bene. Ragazzi, sapete le opere di Umberto Eco? Patrizia, sai quando sarà il nostro prossimo esame di inglesi? Alessandra ha conosciuto il suo fidanzato Alberto quando abitava a Roma. Carla sa ripetere in memoria dieci poesi di Leopardi. A 18 anni Roberto sa parlare il francese perfettamente. La settimana scorsa i miei parenti hanno saputo che mi sono allariato. Tutti i miei compagni di classe sanno che domani non ci saranno le lezioni. E basta per oggi. A presto.